Quale sarà il futuro delle autostrade 24 e 25 resta oggetto di valutazione del governo e del ministero delle infrastrutture che nelle prossime settimane decideranno sia secondare o meno la richiesta di strada dei parchi per la cessazione anticipata della concessione in scadenza nel 2030 a fronte di un indennizzo quantificato in 2,4 miliardi di euro. Il punto di rottura è stato la mancata approvazione del PEF, il piano economico finanziario, lo strumento che consentirebbe la messa in sicurezza dei 280 chilometri di autostrada adeguando l'infrastruttura che collega Adriatico e Tirreno alle nuove normative europee e nazionali. Dunque ancora tutto da valutare così come annunciato da Alessandro Morelli, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ospite della seconda giornata di Terrà, il primo forum nazionale sulla transizione energetica in corso di svolgimento all'Aurum di Pescara che oggi è stato incentrato proprio sul tema della mobilità e dei trasporti e sul futuro degli stessi nell'ottica della transizione energetica. La regione Abruzzo scommette su progetti che puntano soprattutto all'idrogeno per la riconversione del trasporto pubblico locale e per abbattere quel 30 per cento di emissioni in atmosfera che sono imputabili proprio al settore dei trasporti come ribadito anche dall'assessore regionale all'energia Nicola Campitelli durante il suo intervento. Intanto sulla vicenda delle concessioni autostradali il viceministro Morelli ha dichiarato che Chiaramente tutta questa tematica è oggetto dell'attenzione del Ministero siamo veramente preoccupati di come potrà proseguire innanzitutto la manutenzione di questa autostrada, di queste importanti autostradali e ricordiamolo la nostra finalità è quella di avere prima tra tutti la sicurezza dei nostri concittadini, la sicurezza delle infrastrutture. Detto questo chi gestisce l'autostrada a me francamente interessa poco l'importante che la manutenzione sia continua, persistente e magari migliore rispetto a quanto sia verificato nel mondo autostradale inutili che stiamo a ricordare tristi eventi degli anni scorsi. Dunque per questa ragione il Ministero ha questo argomento tra i primi punti della propria agenda e stiamo chiaramente valutando quali siano le scelte migliori. Quando scioglierete le riserve anche alla luce di questo forte indennizzo che prevede 2,4 miliardi di euro. Chiaramente c'è una tematica anche finanziaria, detto questo dunque mi auguro che nei tempi più brevi possibili si riesca da divenire a una soluzione definitiva perché questa infrastruttura è una delle infrastrutture fondamentali del Paese. C'è un'altra tematica di cui si dibatte ormai da tempo in Abruzzo ed è il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma. Molti comitati, cittadini, associazioni ed altri chiedono di rivedere questo progetto in funzione della salvaguardia di alcuni centri abitati che dovrebbero essere appunto attraversati da questo progetto anche con abbattimento di case ed espropri di terreni. Cosa si dice al Ministero tal proposito? L'ospicio è quello di poter connettere, collegare tutta l'Italia e soprattutto l'Italia quella più prossima alla capitale. Noi pensiamo a quanto i cittadini Pescara per esempio con quali difficoltà raggiungono Roma. Evidentemente gli interessi dei territori devono essere valutati, proprio su questo il Ministero ha inteso, il Governo ha inteso investire molti finanziamenti per migliori collegamenti con l'Abruzzo verso la capitale e non solo evidentemente. Dunque l'interlocuzione ci deve essere, deve essere continua, la trasparenza nei contratti e negli appalti deve essere continua, però ricordiamoci che queste sono infrastrutture di interesse nazionale e quindi benissimo sostenere, difendere gli interessi locali guardando chiaramente una prospettiva nazionale.